Finalmente è stata trovata una soluzione per il ruscello famoso che usciva da Via 24 Maggio e poi sgorgava purtroppo in un tombino. Mesi e mesi ci sono voluti, poi finalmente è stata trovata una soluzione. Ancora si discute sulle responsabilità di questa vicenda, di questo comune, il condominio, la ditta. Resta il fatto però che finalmente dopo quattro mesi circa, quel ruscello, quella perdita d'acqua che arriva addirittura dalla fonte di Via Montegrappa, non ci sarà più. I lavori si stanno facendo da parte della ditta che è stata incaricata, con una ditta diversa da quella che aveva fatto i lavori iniziali e che ha assicurato che la settimana prossima i lavori saranno terminati e quindi si potrà tranquillamente continuare a parcheggiare in Soquelà e soprattutto a transitare sul marciapiede di Via 24 Maggio che era appunto già tutto quanto in certo qual modo danneggiato dall'umidità e dall'acqua. È stato rifatto, il marciapiede si sta rifacendo, quindi non avremo più il ruscello acquaosico, ma avremo anche un marciapiede funzionale dove nessuno, come era accaduto purtroppo, potrà cadere e quindi saranno risolti anche i problemi della incolumità pubblica.